Buongiorno, oggi vediamo una cosa nuova. Allora, prendete il libro a pagina 100. Allora, qui a pagina 100 abbiamo l'esercizio 12. Aveva detto Valentina scoprire la grammatica. Vediamo un nuovo tempo del verbo. Allora, guardate qui, eh. Portavo questi pantaloni di lino blu. Li avevo appena tirati giù dall'armadio. Allora, guardate qui, eh. Li avevo appena tirati giù dall'armadio. Allora, questa forma qui, avevo tirati, è un tempo nuovo, il trapassato prossimo. Allora, guardate bene la frase, eh. Portavo questi pantaloni di lino blu. Li avevo appena tirati giù dall'armadio. Quando si usa il trapassato prossimo, si usa, parlando al passato, per esprimere, eh, un'azione passata che si svolge prima di un'altra azione passata. Allora, se vedete qui, vediamo qui insieme, uso del trapassato prossimo. Il trapassato prossimo si usa per indicare un'azione passata prima di un'altra espressa al passato prossimo, al passato remoto o all'imperfetto. Allora, guardate qui, eh. Facevamo il compito che ci era stato assegnato. Quindi, prima di fare il compito, il professore, cioè io, ve lo ha dato. Quest'altra frase, mi fece un'osservazione perché ero arrivata in ritardo. Che significa? Significa appunto che tu eri arrivato in ritardo. Di conseguenza, dopo che sei arrivato in ritardo, io ho fatto un'osservazione. Va bene. Allora, adesso vediamo un attimo come si forma. Guardate qui, lo vediamo insieme. Allora, funziona come il passato prossimo. Passato prossimo, ve lo ricordate? Eh, era così. Ups, aspettate un attimo. Il passato prossimo funzionava così. Funzionava. Io ho mangiato la pizza. Io sono stato a Roma. Il trapassato prossimo è la stessa cosa, quindi come funziona? Io avevo mangiato la pizza e io ero stato a Roma. Chiaro? Quindi come funziona? Si usa l'imperfetto di essere o avere, quindi ero o avevo, più il participio passato, cioè visto, visto, letto, fatto, eccetera. Tutto chiaro? Quindi, quando si usa il trapassato prossimo, l'abbiamo visto, lo vediamo qua. Con il trapassato prossimo si indica un'azione passata compiuta prima di un'altra azione avvenuta nel passato. Quindi, per esempio, qui nella nostra frase, io avevo mangiato la pizza. Per esempio, potremmo fare ieri sono stato male perché avevo mangiato la pizza. Va bene? Oh, adesso prendete sempre il libro a pagina... Ovviamente è l'ultimo. Vabbè, prendete il libro a pagina 101 e fate l'esercizio C. Lavora con un compagno a turno. Scegliete una situazione. Ecco qua. Allora, qui, eh. Scusate, questo esercizio... Oh, allora, completa, fate questo esercizio qui, eh. A pagina 101. Lavora con un compagno, vabbè, lo fate da soli, eh. Beh, bevevo il caffè e poi scegliete una di queste frasi e la usate al trapassato prossimo. Quando avete fatto l'esercizio me lo mandate per email. Va bene? Spero che sia tutto chiaro. Buon lavoro. E ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, ciao.